Buongiorno signorini, signorine, benvenuti al secondo giorno. Oggi piove, molto, ma molto, però no, no, quella è una nuvola, dov'è? Ecco, quella è una nuvola e adesso dobbiamo arrivare il telefono perché non vogliono che usiamo il telefono mentre giochiamo, vabbè, ciao. Pilla la torcia. Adesso dobbiamo fare un tippo. Sul pisello, qua, qua. Aspett. Oh, devo essere buio. Devi farlo, coglione. Buono adesso. Quando cazzo devo farlo? Va bene, va bene. Va bene. Senso al che io ne favo. Va bene, va bene. Lo faccio, lo faccio, orizzontalmente. Vai. Non si vede niente. Non si vede niente. Che cazzo. Non è che mamma, la puoi, la puoi, la puoi, la puoi, la puoi. Non si vede niente. Non si vede niente. Ah sì, ah sì, ah sì, ah sì. Si vede niente. Cazzo. Un movimento sexy. Un movimento sexy. Che c'eve. Un levano la cintura. Non si vede niente. Non si vede niente. Non si vede niente. Guarda. Suave. Suave sin них vale, assalto. Ara, bacco. Mana, bacco. Suave sinistling. Vai, arriva. Alla, arriva. No, non si vede niente. itto! Sì, ma schifo! Raga qua sono un po' quali La riprovano perchè mi è venuta moglie No, mi non mette l'acqua! La sorella, porca tro... Sensuale! Ma mi metto la sensuale? Sensuale! Vai! Vai raga! Perchè si, zitti! La tenita! La tenita! I miei occhiali canta! Sto cadendo! La tenita! Oh, non me la sento me! È un movimento a sé, Stai qui! La tenita! La tenita! La tenita! picchiettini c'è la pula allora abbiamo passato la ok aspetta abbiamo finito di mangiare allora abbiamo peranzato ma basta mamma mia no abbiamo fatto colazione abbiamo pranzato abbiamo lavato i piatti no non ho lavato i piatti e adesso dobbiamo fare un gioco fuori perché stranamente ha smesso di svegliere e domani faremo una gita adoro buongiorno ha visto che non sono riuscita a registrare tutto oggi perché c'è uno riferimento di tutto il tempo adesso sono alle 21 e 8 si si sono alle 21 e 8 e non è neanche arrivato il primo o forse è arrivato non ce ne siamo accorti gli hanno cenato l'abbiamo fatto e adesso dobbiamo uscire fuori con le torce andiamo a un paesino tesori con queste torce abbiamo trovato un cane e sti bimbi bimbi brutti bimbi minchia si sono venuti e hanno detto oh non toccate quel cane non tocca ma ti spacco brother questa manda quindi mettiamo la torcia il resto e il tempo cioè vabbè questa non odio ho messo a portare così quindi possiamo andare tesori adesso dobbiamo aspettare dobbiamo aspettare e poi e poi e abbiamo il paesino raga forse ciao Yasha allora forse tu stai con me perché sennò sbocco di me ok mi sa che facciamo un nascondino al buio e l'ultima volta che abbiamo fatto un nascondino però qua è il paese meno male che è piccolo se facciamo un nascondino di notte io corro no tu non devi correre oh ma se corro mi scontro questa pazza la pazza di Thea prima è scappata è scappata non l'abbiamo più trovata a un certo punto l'abbiamo chiamata e ha detto e se si staventata ha urlato e ha scappato ancora più lontano ma che problema non lo so veramente ma che cosa ci sei vabbè stavo dicendo l'ultima volta che l'abbiamo fatto ci siamo belli cioè in realtà i lontani ci hanno ritrovato quindi torcia e abbracano e ci siamo prima di partire la gola dei polli si fa per Manu quell'altra squadra si fa per l'altro vai vai ci sono Manu 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 vanno giù e siamo ahahahah a vanno giù manu vanno giù manu 3, 2, 1, via! E via! Ho un po' di tifo qui! E via! Non posso andare a fare il figlio. 1, 2, 3, via! Ciù! Mamma mia! Tutta la mia scelta, la facciamo! Eccolo! 3, 2, 1, via! Vai via! Vai via! E via! E via! Vabbè ragazzi, è un escape room e adesso dobbiamo finire. Ma ho visto che ci sono due anni? Sì, spero. Siamo male. 6, 6, 5. Sono 3, 6, 7. E' un 5 che non è male. E ma mancano 1, 2, 3, 5. Mancano 3, 6 e 3, 5. Cioè ci sono 3, 6 sbagliati? Vai! 3, 8, 2, 3, 8, 2, vai! 9, 9, 3, 8, 7, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5. Ok, per il 3 è il 3 che è il 2 che è giusto. 3 è sbagliato. E' il 3 o il 2 che è sbagliato? 3, sbagliato. Fa 115 questo. Quelle errate quindi... Allora dovete scambiare il 1. Cioè no, e cos'è che c'è lì? Il 5 che deve andare qua al prossimo video. E ma quindi è il 1 sbagliato o il 5 che è sbagliato? Dobbiamo prendere quelle errate, quindi quelle sbagliate teniamo conto. E ma è tutto sbagliato. No, il 5 e l'1 sono sbagliati. 5, 1, 6 e 3. E' 6, 3, 5, 1. 2. Ok. Allora proviamole tutte. Quali sono i numeri? I numeri sono 5. 1, 5, 6, 2. Giusto? 1, 5, 6, 2. Fai 6, 2, 5, 1. Prima è sentire tutti che si avversano. Sbagliato. Sbagliato, c'è l'anno scorso. Ma come si troverà l'anno scorso? No, Martina. Non è vero. L'anno scorso la faccio in giro. Io ne ho. Z, allora. Ah, sono stupida. Scusate. Fatti, dico le copie. Provo a fare K. Devo dire che Emma sei molto bravo. K è... La K è 2, 5. K è 25, quindi K uguale 25. E la E è quale? E la E è 1, 15. 25, 15. 25 più 15, 40. Più 10? No, sì. Cos'è questo? Ok. Giusto? Cos'è questo? Questo che cos'è? Alfa. Alfa. Alfa, alfa, alfa. Giusto? Alfa, alfa, alfa. Alfa, alfa, alfa. Alfa, 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 alfa. Ma cosa vuoi da me? Saliva. Penso ad angelo. Ah, sono delle copie. Puffi. Mosche. Le mosche. Oh, trovate qualcosa che potreste trovare pure in una prigione. Le mosche. Sì. Sì. Le falene. Senti, che caffè. Può essere? Non si è una pozzata. Ma è che c'è una pozzata? Ma è che c'è una pozzata? Ma è che c'è una pozzata? Non si è una pozzata, ragazzi. Eh, cosa è che c'è una pozzata? L'aria. L'aria. In cos'è che si può nascondere? Tutto. Le tovaglie. Di quei bambini hanno lasciato il mio ricordo. Eh, beh. I quadri. I tagli sui muri, i tagli sui muri. È una cosa nascosta. I tagli sui muri. Sì. È dentro quella roba. Ma prima c'era la metà di quel cuore. No. Ma abbiamo che cos'è? Cos'è? Siamo i puffi. I puffi. Il tre è, vi faccio giocare da un lato e dall'altro, ma... Pim pong! Pim pong! Vedi, quella mosca è sul ping pong. L'hai trovato? Eh, ce l'ho, Marika, sotto di là. È un po' rosso. Però non penso di se... È l'etichetta. No, dai, ragazzi, l'ho già trovato io. Raga, eccolo, 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 eccolo. Oddio. È C. Ah, ma veramente qua? È una C. Ma dove sa come? No, no, mi sa di male. Sì, pesa. È una C. Dobbiamo aspettarla? È bella, ma... Scrivete, Marika. 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 Io nel caso la riattacco. Ah no, da quando siete arrivati solo uno di voi ci ha prestato attenzione. Uno di voi. Lui. Lui. Ci ha prestato attenzione. Chi siamo? Da quando si è... Non ho capito. Ma te ci sarà? La pasta? La pasta la mangia una volta. Ci ha prestato attenzione, vuol dire che sono anche di più. Quindi cosa potrebbe essere? I puffi. I puffi. Vedi i specchi? In camera, sì. Sedi. Eh, ma può essere anche questa cosa, non? Qua. Vediamo le racchiette da ping pong. Tanti sono in giro. Ma che ne ha già sentito voi? Siamo al testo. Non ci siamo. Oh, sì. Scusate, veramente, dove avete guardato prima, eh? Gaia. Gaia, Marika. Non la devi staccare. Non so se dobbiamo staccare. Ma che... Chiudete la porta. Non l'abbiamo trovato. E' un atto al terzo. No, il terzo è il secondo. No, ne abbiamo trovato due, ma dobbiamo staccarli? Prendi, prendi, prendi. Vado a prendere uno. Non puoi prendere il portatore. C'è il vostro. Uno di voi che è veloce. Il vostro? Il primo cos'è che è? Ah, è il... Il portatore. Eh, allora, se abbiamo trovato qua. È scritto in grido? Sì. Ok, ok, ok. Dobbiamo trovare l'altro. Dobbiamo andare. Ok. Ci siamo, ci siamo. Ciao. Ciao. Dobbiamo nascondere. Rileggiamolo un attimo. È il secondo che manca. Qual è? Da quando siete arrivati solo uno di voi ci ha prestato attenzione. Chi siamo? Ci ha preso? Ci ha prestato attenzione. Uno. Uno. Uno, le carte da uno. Guarda, andate a guarda. Andate, andate. No, andate a guarda. No, andate a guarda. No, non può essere in grado sotto qui. Guarda. Non sarà mai. Tincoli! Tincoli! Non sarà mai. Tincoli! Tincoli! Magari? Sì. 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 e poi hai lavori di un tipo uno di loro può essere lì facendo io 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 questo i premi io l'unica cosa che ho presato a deputato e poi e lei detto e lei detto e lei detto che sono stati negli aiutori e va si va il più buono carte da uno uno di voi ci ha pensato adizioni i libri Elia sopra c'è il libro lì ma raga aprite lì ma qua ci sono soltanto ma magari se li hai tenuti se li aprite i libri proprio raga non trovo niente e questi sì sì i giochi che c'è la chiave ci ha prestato attenzione e è io una di noi ma in questo giro quando siete arrivati questi appena siete arrivati non è già che ti fa sto qua oddio oddio guardate qui giù e cosa ti vedo c'è i libri avete entrato gli estitori e allora su all'ingresso c'erano dei libri sì all'ingresso non dentro abbastanza attività allora no raga 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 fermi già ho visto già ho visto non ci sta niente al cibo al cibo le coppe si dai gli indizi gli indizi non possono essere di cucinare no gli indizi ma poi si no adesso ma dai cercate le panche abbiamo pesato l'utizio nelle panche le panche le panche le panche Allora stanno giocando Stanno cercando Stanno cercando gli altri Allora Tra 20 minuti mi si spegne il telefono Quindi se si spegniamo In caso Il video È perfetto Pensa che hanno finito mai Allora forse faccio qualcosa Gaia Gaia Marica Gaia Marica Ho provato Ho provato Ho provato Ho provato Provato La cittava Aqui No la cittava E' del Tarli E' del tarli E' del tarli Il tarli Bew..! activ non dovevo mettere dovrebbe venersi ma come dicono che bisogna vedere il prevertere però il prevertere è tanto secondo me che sono i 10 anche se non l'abbiamo trovato qual è il mio minaggio? sì, perché tutti ne abbiamo i 10 qual è il mio minaggio Diana? non c'è se dobbiamo cercare i 10 lì e questo qua è il finale soltanto uno mi ha dato tanta attenzione solo uno di voi mi ha dato attenzione madonna ah, è lì eh sì, è lì mandami il codice ma che cosa c'è di volta? ma figa ma siete sicuri che sono i libri? sì sono le copertine di due libri non c'è nient'altro ah, vabbè raga qua avete già guardato? dobbiamo ancora passati tra le copertine nooo non c'è ciao 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 Grazie.